Ciao a tutti doggy, io sono doggy color e oggi sono tornata qui su adopt me Allora ragazzi, io vi volevo fare questa precisazione mentre entriamo su adopt me Io ragazzi non sto portando video sul canale, però comunque continuo a giocare, state tranquilli Un secondo che vi faccio un pochino lo zoom Ok, ciao ciao Vorrei andare a salutare una fan, comunque ragazzi vi stavo dicendo Allora, ciao, allora un secondo Ciao storeg Non so scrivere ragazzi, starò, starò, scusate Ciao storeg, allora non so chi sarebbe Ah eccola, eccola qui, Lexi Allora vorrei salutare Lexi, Games, YouTube e anche Cometa2083 che io stavo registrando prima ma non è andato E comunque la saluto, mando un bacio a tutte e due e a tutti i fan Iscrivetevi al suo canale, siiii Si ragazzi, iscrivetevi al mio canale se volete Tappate la campanella, lasciate tantissimi like E per non perdervi nessun video E ragazzi, spero che Non, che vi sono mancata Non, che non vi sono mancata Anzi, che vi sono mancata Però ragazzi, state tranquilli perché i video continueranno su Adopt Me Allora, come avete visto Sono così convinta Per un motivo, ragazzi, mi viene da piangere No vabbè, sto scherzando Per un motivo Comunque questa è la casa che hanno aggiunto E ve la farò vedere in un altro video Sono riuscita ad ottenere di nuovo un Arctic Ranger Fly Ride Eh, ragazzi, si Poi ho ben quattro con le Momy Cat E me lo vorrei fare Neon E sinceramente gli ho aperto le Ta-dan Momy Cat Box E ho trovato tutti e quattro Quindi comunque A proposito, andiamo ad aprire No ragazzi No dai però basta Ragazzi, ne ho 31 Madonna Mi sono fatta il Neon Snow Owl Fly Ride Allora, poi il Neon Ride Red Squirrel Che è carinissimo Ho questi pet E sono riuscita ad ottenere questo Fantastico Drew Pet Mi piace tanto Questo che l'ho scambiato E anche questa E questi toys che sono introvabili E ora prendiamo sempre questo Perché devo fare le missioni Vabbè, vi spoilerò un pochino pochino la casa E nel prossimo video vi farò vedere Queste Questa 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 Cioè, le mie case Tutte le mie case E Allora ragazzi Un secondo che devo fare le missioni Perché Deve crescere Deve diventare Neon Ragazzi, sì Neon Sono pazza Lo voglio far Crescere E farlo diventare Neon Sono pazza Seriamente Ragazzi Allora Facciamo Exitone Così vi faccio vedere Ho 9.037 euro Oh, che carino questa Velchik Gioco da 91 giorni Ho ben 399 stelline Quindi al Aiuto Scusate Al 92 I'm so sorry Al 92 Avrò 400 stelline Precise Precise E avrò anche il tucano Ma ok Ho 188 Candy E oggi ragazzi Vi voglio Svelare Un trucchettino Che forse già sapete Ma io ve lo dico comunque Per Il minigame Dell'uomo Senza testa Oh, vediamo In pratica Come fare più Come dire Come fare più Candy Cioè Il massimo Delle candy Comunque ragazzi Mentre Non penso di essere Proprio in un server ricco Poi No, vabbè Niente Non è vero Non sono in un server ricco E No 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 Va bene Ragazzi Non importa Non importa Come dice la canzone E Non mi importa Non importa Vabbè A parte questo Quindi ragazzi Allora Questo è il mio inventario Che è un po' cambiato E da quando Comunque Dall'ultimo video Sarà Abbastanza Cambiato Eccolo qua Il minigame Delle pozioni Ragazzi Non c'è un trucco Perché Come dire Non c'è un trucco Perché Devi prendere le pozioni E basta Cioè No Ho sbagliato No le pozioni Devi prendere I diversi funghi Le diverse Alghe Diciamo Tra tante virgolette E Avere poi Delle pozioni Molto semplice Ora però Vi svelo tutti i posti 3 2 1 Ecco qui Prima di tutto Dobbiamo andare Black Fern Il Black Fern Just here No Just here Just here 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 Black Fern E' qui Lo possiamo togliere Anche perché Poi ve lo troverete Nei toys Poi andiamo a prendere Avevo visto Che dovremmo Andare a prendere Anche Veloce ragazzi Non vedo neanche Il tempo Da qui Questa qui Che si trova All'entrata Della cripta Mancano comunque Ragazzi 4 giorni Uffi Uffi Allora Tu 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 Dai ragazzi Ma dove sto andando Per l'esattezza Ditemelo voi Perché sinceramente Non lo so Comunque ragazzi Se non faccio video Scusatemi Però non posso Proprio farli Però comunque Magari alle volte Arriveranno E anche lo Small Mushroom Ecco Allora Mettiamo uno Mi si era pagato Lo Small Mushroom Io ragazzi Vi consiglio di andare Con un pet Ride Fly Oppure soltanto Ride Oppure soltanto Fly E andiamo a prendere Lo Small Mushroom E qui Mi confondo Sempre Tra il Toll E lo Small Mushroom Perché Boh Non so Tadam Preso Vediamo un po' Che pozione Ragazzi Lo volevo sempre fare Ragazzi No ragazzi Lo devo far vedere Tadam Sono Allora Andiamo magari In un posto Un po' più Luminoso Perché Sennò Non si vede Nulla Ragazzi Tadam Ciao a tutti Doggy Io sono Doggy Color No ragazzi Troppo bello Abbiamo Doggy E abbiamo Un'altra Doggy Fantastico Ragazzi Ne vado Un po' così A parte Questo Quindi Questo E il primo Minigame Questo ragazzi L'adoro L'adoro Oh Comunque Vi volevo far Vedere Halloween Se scriviamo Appunto Non so più Scrivere Bene Abbiamo Tutti i toys A doppio Come abbiamo Anche Due Halloween Black Witch X Roller Appunto Tutti i toys A doppio E una macchina Che basta E avanza Che l'ho scambiata E quindi Questo Sono molto contenta Che magari Alle volte Faccio Di nuovo Video E registro Di nuovo Video Sono molto 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 Contenta E ragazzi Un altro Metodo Per fare Più Caramelle Allora Un attimo Che lascio Qui E Questa Questa Qui Eccola Qui La Come posso La zucca La zucca Vi da Ogni 24 Ore Le caramelle Io voglio Vedere Se è aperta No dai Ma che le mettete A fare Allora Vabbè A parte Questo La zucca Vi da Ogni 24 Ore Le caramelle Appunto Poi vi dice See you tomorrow Quindi A domani E Che dovremo Ritornare Poi Domani Per prendere Altre caramelle E poi Ragazzi Allora Ho finito Da Ellie E poi Un altro Modo E Ah Questo Anzi Vi faccio Proprio Vedere Da dove Si prendono Fantastico Ragazzi Mi piace Troppo Allora Se andiamo Nello shop Tipo a me Mancano 49 ore E 20 secondi Se andiamo Nello shop Qui Buy candy Abbiamo 360 candy Per 30 Robux 85 Per 1080 candy 140 Per 1800 candy 275 Per 3600 candy 650 Per 9000 candy 18000 Candy Per 1250 Robux Tipo io Alle volte Mi prendevo All'inizio Ecco Mi prendevo Sempre questa Però Ora Non la voglio Comprare Per non Consumare Troppi Robux Quindi Ragazzi Vi stavo Dicendo Qui Ah ci Ho Aspettate Che Reg Di nuovo No vabbè Dai Comunque Sto Reg Perché Prima Ci siamo Tutti Salutate Saluta 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 Saluto Ciao Saluto Cometa 2083 Oddio Ciao Che si dovrebbe chiamare Asia Quindi ragazzi Vi stavo dicendo Tutti questi E una di questa E poi Debertuiar Ah ho anche Tutti questi Questo però Non l'ho E questo Penso soltanto Uno Non lo so Poi farò Il rifornimento E poi Debertuiarò Questo E questo Allora Ragazzi Non so Questa non è una fan Non so Allora Ragazzi Prendiamo La mia Ellie Da me E la mia Ellie E tutto Spero che I miei video Vi strappino Sempre Un sorriso Un secondo Ragazzi Perché Io Ce l'ho Già L'ho anche A doppio Questo No No grazie Non so Chi sia Perché Non l'ho Non l'ho Neanche Tra gli amici Non so Che cosa Devo fare Scusa Ma non so Cosa darti Comunque Da me E la mia Ellie E tutto Vi invitiamo A iscrivervi Al canale Tappare la campanella Lasciare tantissimi Like E Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ciao Ciao